Il Comune di Gela si attiva in merito alla distribuzione dell'acqua in città e delle ultime ore la notizia che sono stati presentati dei progetti. Il Sindaco Domenico Messinese. Siamo riusciti a far validare dei progetti che sono già la Regione Siciliana per aumentare le portate e quindi modificare le condotte che arrivano alla città per poter finalmente superare il problema della turnazione. Quindi questo è un passo avanti a livello di investimenti che di fatto consente di dare una risposta al problema idrico. Problema che da noi è molto seguito, abbiamo nominato John Legale che sta seguendo diverse problematiche tra cui anche il caro acqua perché non si riesce a capire come mai le bollette sono lievitate ma gli investimenti non sono stati fatti. Si sta intervenendo con un caltacqua che sta visionando e spezzonando la condotta di Via Venezia sta facendo una serie di domini per poter fare ripristinare la sezione idraulica come anche sul lungomare. Interventi che noi riteniamo che comunque sono momentanei perché la soluzione è quella di fare le infrastrutture che sono previste da oltre 15 anni e che ancora non sono state realizzate. E' chiaro che dopo tanti anni di immobilismo questa spinta che viene data dall'amministrazione viene vista come se fosse una contrapposizione con caltacqua. Noi vogliamo che caltacqua lavori bene e che faccia quello che deve fare, dare l'acqua ai gelesi. Il primo cittadino interviene anche sulla vicenda della fornitura idrica nelle ore notturne a Gela. Come si ricorderà Messinese aveva messo un'ordinanza che imponeva alla società che gestisce il servizio idrico in provincia di non fornire all'acqua la notte ma in orari diurni. Erogando l'acqua nelle ore notturne, diceva l'ordinanza, si obbligavano gli utenti ad azionare i sistemi di accumulo in orari decisamente poco agevoli. Questa è una vicenda giudiziaria, ho fatto un'ordinanza in tal senso, i poteri più forti di quelli comunali hanno deciso in prima istanza al TAR di sospendere questa ordinanza. Noi abbiamo fatto ricorso al CGA e siccome siamo fiduciosi nelle leggi sono sicuro che il CGA darà ragione all'amministrazione anche perché nel primo caso non c'è stata data né la possibilità di difenderci e ancora la cosa più grave è che le motivazioni sono per me assurde perché è stato detto che la notte le tubazioni possono dare l'acqua e di giorno non resisterebbero. Quindi vorrei sapere come mai le tubazioni dal giorno alla notte vengono sostituite. Notiamo da quello che lei dice che non c'è feeling proprio con CalTAC. Io non devo essere né innamorato di CalTAC, né tantomeno lo devo odiare. Io devo avere da CalTAC un servizio, un servizio che i gelesi pagano, pagano profondatamente ma che di fatto non hanno. Quindi io credo che sia giusto pagare ma credo che sia giusto avere pure il servizio.